La CNA provinciale di Ragusa e quella di Vittoria spingono per il completamento dell'autoporto di Vittoria. L'organizzazione di categoria sabato mattina ha promosso un sit-in dinanzi al cangello d'ingresso dell'autoporto di Contrada Crivello. Con questa iniziativa la CNA intende sensibilizzare chi di competenza a sbloccare la procedura e le opinioni pubbliche a dare una spinta verso il raggiungimento del traguardo. L'autoporto sorge su un'area di circa 20 ettari dove è prevista la realizzazione di due grossi magazzini di circa 9.000 metri quadri, ciascuno per il deposito delle merci, insieme ad altre strutture al servizio dell'autotrasporto. Considerato che i lavori sono ormai bloccati da mesi, la CNA intende ottenere risposte concrete sul futuro dell'opera in questione. Ecco perché, spiega il presidente provinciale CNA Ragusa Giuseppe Santocono, Abbiamo deciso di indire quest'azione di sensibilizzazione, convinti come siamo che sull'autoporto sia calato il silenzio. A sostenere la protesta della CNA anche il Movimento 5 Stelle di Vittoria, presente il deputato regionale Vanessa Ferreri, che ha parlato dell'ennesima incompiuta della politica e ha assicurato il proprio impegno per garantire i finanziamenti necessari al completamento dell'opera. Sì, diciamo che sono interrotte, a noi ci risulta, da un paio di mesi c'è il lucchetto, lo abbiamo anche denunziato, lo abbiamo denunziato, portato a conoscenza agli amministratori, all'assessore e al sindaco, per mezzo di stampa lo abbiamo anche comunicato e quindi è un qualcosa che ci sorprende, è strano come una struttura del genere che dovrebbe essere, ed è, perché lo è, un volano potente per l'economia di questo territorio, non solo del territorio Iparino, ma di tutto quello che è il territorio che abbraccia la provincia di Ragusa. Di cosa stiamo parlando?